Questa sesta edizione proietta anche Dante Sant'Angelo che esce dalla finale appunto di Capitale Italiana dell'Avventura per il 2025 verso il 2024 dove saremo appunto la capitale per la pubblica, anche la capitale culturale per la pubblica regione pubblica e poi abbiamo voluto dedicare questa sesta edizione ad un nostro concittadino onorario che è il professor Giorgio Montrato che tanto ha fatto per la nostra comunità e tanto ha fatto per la nostra città.